Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Cresce l'interesse e la curiosità per il testamento di Silvio Berlusconi. Il patrimonio del fondatore di Forza Italia, quattro volte presidente del Consiglio, secondo Forbes ammonta a circa 6,8 miliardi di euro. Anche se non esiste un calcolo preciso dell'eredità del defunto cavaliere, che comprende azioni, ville e yacht. L'ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario, non è tra gli eredi, visto che ha divorziato da Berlusconi nel 2014. La legge dice che qualora all'ex coniuge, in sede di divorzio, sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di un assegno, il tribunale può stabilire un assegno a carico dell'eredità solo nei casi in cui sussiste uno stato di bisogno. In questo caso però non è così. Vediamo perché. Nel 2020 Lario e Berlusconi, dopo un lungo contenzioso legale durato oltre dieci anni, avevano raggiunto un accordo, che aveva messo finalmente la parola fine alla battaglia legale sui profili economici del divorzio, cancellando tutte le pendenze. La legge dice che l'assegno di divorzio cessa dopo la morte. In ogni caso l'assegno di divorzio potrebbe continuare a gravare sull'eredità solo se si dimostrasse che il coniuge che sopravvive è in stato di bisogno. Malario è considerata una persona che vive in una condizione di agiatezza, come ha esplicitamente scritto la Cassazione nella sentenza dell'agosto 2019. Il coniuge divorziato non ha diritti sull'eredità, a meno che non ci sia testamento in suo favore, ed è difficile supporre che Berlusconi l'abbia inserita nel testamento. Quindi visto che Berlusconi non ha voluto inserirla negli eredi lei non prendere niente. Grazie